sono state ore di apprensione queste per tutti i fan di kylie jenner la splendida ragazza erede del clan kardashian si trovava lo scorso 5 novembre nel pubblico del festival astroworld il concerto organizzato a houston dal compagno travis scopo proprio da qui sono giunte notizie terribili l'enorme calca di gente completamente fuori controllo ha portato alla morte di otto persone tutto è accaduto in pochissimi secondi all'evento a cui avrebbero partecipato circa 50.000 persone ad un certo punto intorno alle ore 21 i partecipanti nelle retrovie hanno iniziato a spingere il pubblico che si trovava a livello delle transenne questa vera e propria ondata umana letteralmente travolto i presenti rimasti schiacciati contro il palco a nulla purtroppo sono serviti i soccorsi arrivati immediatamente sul posto le auto dei servizi di emergenza hanno provato a farsi strada fra la folla ma quando sono arrivati era già troppo tardi e non finisce qui lo stesso travis scotta ha provato in più di qualche occasione a placare gli animi interrompendo il concerto e chiedendo alla gente di smettere di spingere al di là dei morti il bilancio finale ancora più grave circa 300 persone hanno riportato ferite lievi dopo il concerto e ben 17 sono state portate in ospedale ovviamente al di là del fatto di per sé ad estare particolare preoccupazione è il fatto che kylie jenner che con travis scott sta insieme da circa tre anni è attualmente incinta